...mente mondiale. Comunque ieri sera chi a Roma non voleva assistere all'ennesima umiliazione del Brasile ha potuto avere molta musica rock a Piazza del Popolo. Vediamo il servizio di Elisabetta Carta. Quest'anno da headliner in Piazza del Popolo è bellissimo. Il festival in sé per sé per noi è un'esperienza incredibile perché ci permette di condividere la musica nostra e di, quando andiamo all'estero, come nel caso di Londra, l'anno scorso o altri festival importanti, cerchiamo di capire il meglio anche dai più grandi artisti. Il negramaro mattatori di una serata rock in Piazza del Popolo a Roma insieme ai Velvet, ai Carnabis e alla band scozzese dei Fratellis. Una serata unica con un mix di talenti italiani e stranieri, cantanti e cantautori, giovani musicisti e guest star come Elisabetta McGovern, l'attrice indimenticabile di C'era una volta in America. Mi è sempre piaciuto suonare la chitarra e scrivere canzoni, ma non avrei mai immaginato di poter suonare in una piazza così bella. È la prima volta che mi esibisco in un concerto con altri artisti ed è una bellissima esperienza. Grazie per la visione!